L'esercito russo ha rafforzato con superiorità di mezzi i suoi schieramenti nella zona orientale dell'Ucraina, ha ammesso Kiev e i combattimenti infuriano perché Mosca intende raggiungere i confini delle regioni di Donetsk e Lukansk. Una guerra che è destinata a durare, è il punto di vista da Berlino del cancellere tedesco Schulz che ha rivelato che la Germania sta aggiustando le sue politiche proprio in base al proseguimento del conflitto e al sostegno di Kiev. Sette persone sono rimaste ferite in attacchi lanciati contro regioni russe di confine con l'Ucraina. Le unità della brigata ucraina a Tavria hanno liberato otto insediamenti nelle ultime due settimane verso Berliansk e Melitopol, riconquistando dall'inizio della controffensiva 113 chilometri quadrati di territorio in precedenza occupati dai russi e oggi anche il villaggio di Piatikatki a sud di Kharkiv. Il Cremlino ha annunciato di aver fatto saltare in aria da remoto un carro armato per distruggere una postazione militare di Kiev. In Europa si guarda anche al dopo conflitto e si svolgerà mercoledì a Londra la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Ma intanto è giallo sulle armi pagate centinaia di milioni di dollari dal governo ucraino e mai arrivate, secondo una nuova rivelazione del New York Times dopo quella che ha sostenuto la mano russa sul crollo della diga di Novakakovka. Danni e morti e così si scopre che in Russia le persone che percepiscono la pensione di irreversibilità perché un loro parente è morto in guerra sono in un anno 9.000 in più, mentre Kiev denuncia che sono 490 i bambini ucraini rimasti uccisi e 1026 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022.